Ripercorriamo per un momento l'azione dei testimoni che vedono l'auto infossata, che credono ad un incidente e chiamano i soccorsi. Cosa si verifica esattamente in quel momento? Sono testimoni assolutamente credibili. Sì, perché a ridosso dell'omicidio la notte stessa rilasciarono il verbale, quindi è un discorso nell'immediatezza dei fatti. La macchina A, chiamiamola A, provenia da quella direzione e passa vedendola l'auto del Mainardi con la ragazza su questa piazzola con la lucina interna accesa. Quindi l'omicidio non è avvenuto. Percorre alcuni metri, circa 800 metri, un chilometro, e incrocia l'altra auto, l'auto B. Erano tre componenti nell'auto B e due nell'auto A. Si conoscevano queste persone, quindi si riconoscono. Si incrociano il tempo che l'auto B arriva in questa situazione dove siamo noi adesso. Come vedete passano tantissime macchine qui e ritroviamo e vedono l'auto nel fossato. E quindi il lasso temporale tra il momento dell'incrocio delle auto e il punto d'arrivo qui è circa di un minuto, un minuto e mezzo, massimo due. Quindi il delitto è avvenuto in un lasso di tempo brevissimo. Poi sono stati testimoni che hanno chiamato i soccorsi, che poi hanno chiamato i soccorsi. Sì, e comunque nessuno dei due descrive una situazione come quella descritta da Lotti, cioè di auto presenti qui a pochi metri, l'auto di Pacciani e l'auto di Lotti a ridosso della macchina del Mainardi, quindi della pezzolina. E questo dimostra che Lotti anche in quella circostanza ha mentito. Viene profondamente smentito da testimoni assolutamente credibili, da cinque testimoni. Si parla delle chiavi dell'auto gettate, abbandonate nel campo. Intanto in quale direzione? Così magari si ipotizzano una via di un'altra. Vengono gettate in quel campo lì, che poi potrebbe essere la direzione di fuga dell'assassino. C'è da notare che oltre quel campo lì c'è la via parallela e quindi un punto dove potrebbe aver sicuramente parcheggiato l'auto o il mezzo di locomozione che aveva. Certamente è difficile che lo abbia collocato proprio qui in via Virginia Nuova, perché come vedi è una strada di grande percorribilità e anche a velocità sostenuta.